Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Oggi siamo in compagnia di Xiaomi, ma prima di cominciare, sigla. Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi siamo in compagnia di Xiaomi. Ho acquistato una nuova videocamera di sorveglianza Xiaomi YI Outdoor Camera 1080p. In questo video vedremo l'unboxing di questa mia nuova videocamera, ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Prima di cominciare con l'unboxing vediamo un attimo la confezione. Allora, brand Xiaomi YI, Outdoor Camera 1080p. Qua abbiamo l'anteprima della nostra videocamera. Questa è una videocamera di videosorveglianza adatta per l'esterno, completamente impermeabile, dovete soltanto alimentarla, compatibile con Google Home e Amazon Alexa. Qui abbiamo una breve anteprima di quello che la nostra videocamera può fare, quindi rilevamento dei soggetti in movimento. Attraverso l'applicazione riusciamo a vedere quello che succede all'esterno della nostra abitazione. Qua, come vedete, abbiamo Smart Human Motion Detection, quindi una visione avanzata di notte, IP65 contro la pioggia, il cloud per memorizzare quello che vediamo, un cavo di 3 metri, possibilità di collegarla al wifi e la possibilità di ricevere le notifiche. Per ogni unboxing che si rispeccia, ci muniamo delle nostre forbici e andiamo a rimuovere la pellicola. Ok, in questo modo. Allora, vediamo un attimo. Ah sì, ecco, si apre in questo modo. Così. Ecco, 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 ci siamo. Eccolo qua. Allora, manuali, adesivi, spostiamo un attimo la forbice. Packaging, devo dire, sempre veramente ottimo, tutto di cartone. Allora, vediamo se riusciamo piano piano. Ecco, magari mi aiuterò in questo modo. Allora, uno, due, tre. Allora, questo è un comodo cartoncino che ci permette di poter eseguire i fori o disegnare intanto i punti prima di eseguire i fori se vogliamo appenderlo a muro. Veramente un'ottima cosa. Queste cose poi molte volte fanno la differenza, soprattutto durante l'installazione. Allora, qua dovrebbe esserci il cavo. No, allora, qua abbiamo la cavetteria. Ottimo. Qua abbiamo dei tasselli con delle viti e tutti i vari supporti. Questa è veramente un'ottima cosa. Facciamo spazio e vediamo. Allora, dobbiamo aprirla in questo modo. Allora, diciamo che l'esperienza di unboxing, come sempre, è al top. Allora, vediamo, qui dovremmo avere il cavo. Sì, esattamente, cavo di 3 metri USB. Qua abbiamo l'attacco a vite e qua abbiamo la nostra bella videocamera. Qua penso che si installerà magari la micro SD. Dopo questo magari lo vedremo nell'installazione. Cosa abbiamo da quest'altra parte? Allora, alimentazione USB, come quella degli smartphone, carica batterie e basta. Per il resto niente. Qua abbiamo il supporto. Qui vengono inserite le viti. Questa parte, volendo, è anche adesiva, in base a dove volete collegarla. E qui abbiamo la possibilità di poter fare ruotare, ecco, come vedete, la testa della nostra videocamera in base alle nostre esigenze. Poi verrà posizionata, avvitata in questo modo, in modo tale che potete dopo andare a decidere come ruotare la vostra videocamera. Una volta dopo scelto vi basterà stringere. Tiriamo un attimo le conclusioni. Qualità costruttiva, devo dire, sempre al top. Abbiamo tutti gli accessori e tutti gli strumenti per poter installare in ogni posizione, in ogni luogo, questa nostra videocamera di sorveglianza. È impermeabile, quindi sia alla pioggia che all'umidità, veramente un'ottima cosa. C'è la possibilità di poter installare una microSD per registrare o eventualmente utilizzare il cloud. Per quanto riguarda l'installazione, è identica a tutte le altre videocamere di sorveglianza. Vi lascio qui sotto il link in descrizione. Ho già registrato un video riguardante le videocamere. La piattaforma è identica, per cui molto molto comoda. Attraverso l'applicazione e dopo riusciamo a vedere in tempo reale quello che succede. Vi porterò nei prossimi video la recensione di questa videocamera. La installeremo, la proveremo, così vi dirò la mia su questa videocamera di Xiaomi. Cosa dirvi? Sono molto molto curioso e non vedo l'ora di provarla. A questo punto voglio sapere la vostra. Avete mai provato prodotti di Xiaomi YI? Lo avete provato? Che prodotti utilizzate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi da YI Outdoor Camera. E allora è che era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!